Pi 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 Ciao bellissimi, questo è Electric Troppi versi non mi interessa Da notare come la mia telecamera è sensibile al sensore di movimento E quanto sono ficca vestito così siamo col mio profilo principale oggi Perché vi voglio far vedere come funziona la Salmon Run Che cos'è la Salmon Run se non un posto dove affrontare orde e orde di nemici, boss e bestie rare Man mano che sali di grado ovviamente diventa davvero più difficile e un paio di sere fa perché la Salmon Run si svolge a giorni alternati Quindi oggi dovevo registrare praticamente per forza, proprio perché oggi c'è Ti dicono sono disponibili queste armi, sono tutti fucili d'assalto, quindi si combatte oggi soprattutto con fucili d'assalto Mi unisco ad altri giocatori e vediamo cosa riesco a uccidere Stavo dicendo proprio due sere fa ci stavo giocando, sono salito di grado, oltre ragazza apprendista che vedete lì E' diventato incredibilmente più difficile, non riesco a immaginare quanto può diventare difficile Una volta superato un paio, due o tre gradi E come potete vedere in basso ci sono i premi che ottieni accumulando punti Quindi giocando più volte la Salmon Run e più sei alto in grado più punti prendi Quella t-shirt verdina già l'ho presa devo dire l'altra sera Ma comunque sia qui dove si fanno più soldi, quelle capsulette che vedete lì sotto e quelle che vi danno più soldi Quindi volevo fare un video dedicato a questo Salmon Run per farvi vedere come funziona Forse non sono ancora sicuro farò la modalità story anche insieme a voi Ma bisogna vedere sotto nei commenti se siete interessati o meno Perché mi si stanno accumulando un po' le cose come al solito quando mi si accumulano le cose E non ne faccio bene una come Zelda o Shovel Knight e tanti altri esempi E volevo anche profittarne di tutte le richieste amicizia che ho ricevuto per giocare un po' con e contro di voi A ARMS, mi sembrava un'ottima idea, ricevere delle sfide Comunque via, tra poco dovrebbero iniziare a sbucare mostri bestiali non so dove Quindi eccoli là, eccoli là Vedete che lasciano scia, una scia verde Ah, questo va ammazzato tirandogli le bombe dentro la capsula lì E non ci ho preso, avete visto che non ci ho preso, no? Ci ha preso un compagno però Occhio a questo qua dietro, Ewan, che questo ti fa male Eccolo lì Pium! Uh, tre bombe addirittura Una volta ammazzate le bestie di Satana fanno cadere queste perle Che tu prendi e devi riportare al loro posto Che dove è? Eccolo là, nella gabbietta tanto carina Uh, questa mappa è piena di reti varie No, wow, 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 wow Il mio joystick sta laggando per qualche strano motivo Dai, fatemi imposare questo affare, grazie Uh, questo è la bestia a squalo Due perle addirittura, la metto dentro Due perle del vostro peo Questo mi darà un sacco di puntarelli, hai capito? Dove stanno le bestie di Satana? Da quel lato Gran salmone avvistato Il gran salmone è il boss Che dove è stato avvistato non lo so Eccolo qui, il serpentone Il serpentone va ammazzato da dietro C'è la bestie di Satana qui dietro Prendi la perla Presa la perla Ho preso la perla Il mio joystick sta laggando di nuovo 8, 7, 6, 5 Presa l'altra perla Abbiamo preso 9 perle Ne dovevamo prendere solo 4 Ma noi abbiamo abbondato Perché siamo delle bestie di Satana A noi ci piace sempre esagerare Quando ti trovi in belle squadre Belle organizzate Questo è quello che succede Comunque questo joystick c'ha dei problemi Ogni tanto lag e continua a camminare dove dice lui Non so se capirò mai il motivo Comunque io aspetto qui in alto come fa Ewan E vediamo dove sbucano fuori Eccolo là Oh 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 No 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 Non cadere Prendi la perla Cavolo Sono incastrato Sono letteralmente incastrato Guarda mi hanno ammazzato Mi hanno ammazzato Porca zozza Io mi sono incastrato come un pirla Questo qua va ammazzato Semplicemente sparando via manetta Ecco così Perla ottenuta Perla Perla ottenuta Capo La perla Io ho preso la perla Lo so che a voi piace tanto Quando dico un sacco di pipipiu Pipipiu Oh Pipipipiu Sono un amato pe piacevole no Il pipipiu Classico pipipiu Comunque è una figata il fucile d'assalto Devo dire Questo che mi è toccato Dove stanno le bestie di satana Non le vedo Wow 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 Questo spara i raggi laser Porca zozza 10 8 5 Dai posiamo queste perle E ce la facciamo 2 1 Wow 9 perle Anche la seconda ondata Abbiamo spaccato La terza richiede 7 perle 7 perle 7 parle Che arma ho adesso Ho sempre un fucile d'assalto Questo non ce l'ho mai avuto Cadenza di fuoco Sicuramente minore Ma questo significa Che ha anche potenza Maggiore Spero Via Eccoli là Eccoli là Intravisto la bestia Occhio con le granate Che questo adesso si apre Noi tiriamo dentro Grande Questo muore subito Capito Ogni boss si sconfigge In modo differente No E questa è la cosa simpatica Soltanto che quando arrivi Un certo livello Di difficoltà Ci sono dei boss Che neanche il tutorial Ti spiega come si ammazzano Davvero delle bestie sataniche Pupupupupupupupu Pupupupupupupupupupu Ma dove La domanda è dove Eccolo Questo c'ha l'ombrello Tocca ammazzarlo solo quando esce fuori Preso la perla Attenzione c'è una pioggia acida in corso Questa è molto dangerous Un'altra perla Questa è mia Prendete quella perla Quante perle stiamo Bisogna prenderne 6 siamo già a 9 Forse arriviamo a 12 Gran salmone avvistato ma dove Forse di là Eccolo Dai Prendete la perla 2 secondi chissà se ce la dà anche se non la consegniamo No non ce la dà Saremmo potuti arrivare a 12 ma niente E questa è la salmon run ma soprattutto Questo joystick c'ha dei problemi Questo in particolare Il sinistro rosso E qui riceviamo un po' di puntarelli Vediamo un po' Sono arrivato prima Tasso di valutazione più 105% Quindi solo 33 punti Comunque sia molto buoni Lavoro per un altro turno ma puoi scommetterci Che lavoro per un altro turno L'importante è che paghi zio Devi pagare qui Io in particolar modo sono sempre stato giocare le partite pro Di cui ce ne sono 3 tipi E per ogni tipo c'è un rank Ho scoperto Quindi tu puoi salire molto con un rank Se sei molto bravo in una determinata partita Ma gli altri possono rimanere indietro Se non sei bravo in quell'altro tipo di partite Infatti ieri non mi spiegavo Ma ieri ero arrivato al rank C E mi ritrovo un'altra volta C- In realtà no Era perché era un altro partita Cambia ogni ora il tipo di partita Come cambia ogni ora il tipo delle mappe permesse Insomma E' piacevole questa cosa Perché se c'è una mappa Che proprio dici Faccio schifo a sta mappa Dici sai che Allora non ci gioco adesso no Gioco tra un'oretta Magari continuo a lavorare adesso Vabbè io sono bravo in tutte La modestia Ok dove sono? Eccolo là il pentolone Presto puntiamolo Oh prima che sparraggio laser Per la presa Oh qua qua ragazzi Qua qua Se no ci inculano le perle ragazzi Qui 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 con me Qui 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 Bravi prendete le perle Ma dove sono tutti? Perché non vengono a prendere le perle? Dopo ce le inculano queste Ah beh ce l'avete fatta bambocci Io non lo so se stavano a fargli stupidi oppure Ecco l'altra pendolona Io dico sempre con me Con me bamboccioni Bravi Sono io il leader di questo gruppo a quanto pare Questi sembra che sia la prima volta che giocano lo Salmon Run Usate quelle maledette perle bambocci Gran salmone avvistato ma dove? Forse di là forse di qua Dov'è l'altro gran salmone? Eccolo lassù E no non faremo mai in tempo Fine ondata va bene Comunque sia sei perle Poteva andare meglio Se questi si fossero svegliati Sembra davvero che sia la prima volta che questi giocano la Salmon Run E non per fare il modesto vantarmi Che io sono più volte che ci gioco Però sono molto semplici le regole Ammazza i boss Prendi le perle Metti a posto le perle Eccolo là la bestia di Satana Bravi Quello è morto subito Così si fa Così Così Prendete le perle Bravi ragazzi Siamo a posto con le perle Ammazzate la gente di Satana I guardiani del male Adesso stiamo attenti per vedere dove sbucano gli altri Tra poco dovrebbe sbucarne un altro o qualche altra parte Io sto qui allerta Dov'è? Dov'è? Bravo L'ammazzato subito Bravissime Così che si fa Prendi la perla Porta la perla a casa Così si fa Ammazza le bestiole Dov'è l'altra bestia? È sbucata fuori un altro gran salmone Eccolo qui Pam Morto Posto Facile facile Prendi la perla Metti la perla a posto Non potrebbe essere più semplice No? Come regole Siamo a nove perle Quindi parecchie in più di quelle necessarie Perché erano necessarie solo tre Ultima ondata Dai che voglio questi bei puntarelli Cinque Quattro Tre Due Uno Pi 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 Io lo so che a voi piace molto quando dico pi 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 Bene Lui l'ha avvistato Wow Dai La coda La coda La coda La coda Posto È morto Prendete le perle Bravi Qui 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 Ho preso un fucile d'assalto Con una cadenza di fuoco bassissima Ma una potenza micidiale Mi hanno dato questo almeno Dov'è l'altro gran salmone? Qualcuno lo vede? Oh Eccolo qui Questa forse ne porto più di una A posto? Sì 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 No me l'ha inculata Certo io faccio tutto il lavoro e voi vi prendete i punti Stizzo Ziguarda E questo mi piacerebbe farlo anche con voi Però è un po' più difficile Perché bisogna creare una stanza e cose varie Dov'è l'altra bestia adesso? Eccolo lì il serpentone Sono morto? Come siamo morti? Alla fine? Come diavolo è successo? Siamo finiti tutti lì dentro Sconfitta? Ma morì da ammazzare tutti quanti Ah perché ci ha lasciato uno Probabilmente problemi di connessione Ma sei un pirla ragazzo Non puoi abbandonare la tua squadra così Prenderò pochissimi punti 27 comunque buoni Ne faccio un altro proprio per Per velocizzare un po' la faccenda Perché io ho fame di punti qui Anche perché c'è solo per oggi questa Salmurran E io sto qui al lavoro E dopo che avrò finito di registrare questo video Mi devo mettere sotto a lavorare E vorrei stare sempre a giocare a Splatoon E non posso Mamma non posso mamma Via colorate tutto Così abbiamo più posto dove navigare con facilità Datevi da fare Bene lui ha già visto il cattivone Ok morto prendi la perla Porta la perla a casa Ammazza la bestia gigante Dov'è la bestia di Satana? Eccolo qua Prendi la perla Porta la perla a casa Avanti voglio carichi Voglio prendere un sacco di perle Oggi voglio un sacco di punti Se uno sbuca fuori il gran salmone Eccolo Presto Bravo Così si fa Guarda le perle Guarda quante perle che ho Bene adesso li voglio carichi Ragazzi li voglio carichi Mi potessero sentire Si sta alzando la marea signori Quando si alza la marea non è mai un bel segno Pronti grandi Io dico grandi così al caso Dove sta? Ok visto Bravi ragazzi Bravi Così mi piace Posa la perla Vai caccia di perle ancora Qui c'è tutto questo verde che non ci piace Ecco la bestia Pronti Porta questa perla a casa Per carità Portata Guarda questa bestia di Satana Bravo Che sono? L'ho ammazzato io Sono stato proprio io Mica Frank Mica Ciaspole Oh Sono stato proprio io Più Otto perle signori Vai 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 Questo ce la facciamo Questo ce la facciamo Vai 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 Non ce l'abbiamo fatta Qualcuno di voi si fosse svegliato un po' di più Brutti zozzi Siamo di nuovo in tre Cioè ci ha abbandonato un altro Porca cazzozza Questa connessione di loro Che fa pena Cioè io sono collegato col telefono Addirittura gioco meglio Non è per quanto vergognosa questa cosa Bene Lui l'ha notato L'ha visto Un'altra volta problemi con il joystick Che non fa quello che gli dico Posso la perla Oh Attenzione a sto coccodrillo Maledetto Bene se l'hai mangiata Mamma mia quanto siamo pochi Posso la perla Oh la bomba Mamma mia un macello Un macello Qualcuno è morto lì Posso per morire Devo resistere Ce l'abbiamo praticamente fatta Devo soltanto sopravvivere Dovevo solo sopravvivere Perché gli altri erano morti Mamma mia guarda lì Erano morti lì Stanno in un salvagente Quindi ho fatto bene a non concentrarmi Sull'uccisione del boss Ma sulla sopravvivenza Per beccare i punti Come avete visto Addirittura due boss per volta Iniziano ad apparire Perché la difficoltà è aumentata E l'abbiamo ammazzati in tre Oh in tre Hai capito Siamo pure per salire di tasso Quando saliamo di tasso di valutazione Dopo lì diventa davvero difficile Ma penso che ve lo farò vedere In un altro bel video Nel frattempo Vi saluto Grazie per aver visto questo video Se vi è piaciuto Mostrate un bel po' di amore Al pulsante qui sotto Forma di pollice in su So che non sono stato molto di compagnia Non ho parlato moltissimo Perché ero molto concentrato Ma c'era pur sempre Questo bel faccino da vedere Il faccino del Bellissimo Fascinante Electric Grigui Brr Brr